Dopo aver mandato in archivi i mondiali di volo con gli sci, la stagione del salto ha un altro evento clou nella stagione 2020-21. Parliamo della 69esima edizione della Tournée dei Quattro Trampolini, edizione 2020-21, che andrà in scena a partire da domani, 28 dicembre, sul trampolino di Oberstdorf e poi un susseguirsi di altre tre tappe per concludersi a Bischofschofen il 6 di gennaio. Benvenuti nella nuova puntata del Nordic Podcast per presentare quello che è a tutti gli effetti un evento clou per tutte le stagioni del salto con gli sci. Praticamente come prestigio parliamo di un evento che è al pari livello, comunque se non al pari, leggermente inferiore a Olimpiadi e Mondiali. È un evento assolutamente di prestigio che appunto coinvolge quattro trampolini, così come appunto specifica il nome, in una competizione che si ripana tra Germania e Austria. E si ripana a partire, come dicevo, dal trampolino di Oberstdorf, lo Schattenberg-Schanze che qui vediamo inquadrato, trampolino che quest'anno avrà valenza doppia perché su questo stesso impianto si svolgeranno i campionati mondiali di Shinordico, quindi a Marchio Fiss e ne riparleremo ovviamente in un video dedicato. Dunque questa prova di Oberstdorf che partirà domani sarà già la prova generale per i campionati del mondo di febbraio. Oberstdorf è una tappa fondamentale perché di solito i primi tre atleti che finiscono sul podio in questa competizione poi possono giocarsi il titolo della tournée, una manifestazione peraltro molto particolare di cui spiegheremo il regolamento man mano che andremo avanti in questo recent podcast. Due tappe di questa tournée, dicevamo, si svolgono in Germania. La prima a Oberstdorf, la seconda la vediamo qui a Garmisch-Paderkirchen che è una grande classica del Capodanno, tanto è vero che per tradizione la gara di Garmisch si svolge sempre il primo di gennaio, poi dal 3 di gennaio fino all'Epifania ci si sposterà in Austria. Questo è il trampolino del Bergisel di Innsbruck che ha avuto anche lui modo di ospitare i mondiali del 2018 e si concluderà il tutto con la manifestazione di Bischofschofen che è un trampolino di grandi dimensioni per essere un'largile storica tappa conclusiva dell'Epifania anche qui in terra austriaca. Essendo in Germania e in Austria la squadra tedesca e austriaca nelle rispettive tappe avrà modo di schierare il famoso gruppo nazionale e quindi aggiungere altri sei atleti ai contingenti in più in una manifestazione che si distingue per la verità dalla Coppa del Mondo tradizionale perché di solito in Coppa del Mondo si qualificano i primi 50 atleti alla qualificazione di questi primi 50 vengono appunto poi scremati ulteriori 20 nella prima serie di gara i migliori 30 punteggi vengono ovviamente selezionati in base al salto di ogni singolo atleta e poi a ordine invertito dal trentesimo al primo si gioca diciamo la seconda serie e si assegna la vittoria della Coppa del Mondo la tournée dei quattro trampolini in realtà è un format completamente diverso e mentre lo spieghiamo torniamo sul logo di questa manifestazione iconica anche qui c'è una qualificazione che appunto qualificherà i migliori 50 atleti alla competizione vera e propria non ci sarà però lo stesso ordine di partenza della Coppa del Mondo quindi dal pettorale numero 1 al pettorale numero 50 bensì verranno fatti degli accompiamenti dei testa a testa un po' come un tabellone tennistico la somma diciamo dei pettorali di partenza di ogni atleta deve sempre fare 51 quindi vuol dire banalmente che il primo classificato affronterà il cinquantesimo il secondo il 49esimo il terzo il 48esimo e così via il primo a saltare sarà ovviamente il 26esimo qualificato alla gara vera e propria e affronterà il 25esimo mentre appunto l'accoppiamento finale vedrà i più forti della qualificazione quindi di fatto i migliori 10 contro i peggiori 10 della qualificazione banalmente l'accoppiamento 1 contro cinquantesimo sarà l'ultimo che prenderà il via a ogni gara della tournée ovviamente anche a questa manifestazione si qualificano i migliori 30 della prima manche se così possiamo chiamarla e voi mi direte ma come gli accoppiamenti sono 25 quindi passano 25 atleti al tono successivo non è proprio così perché oltre ai 25 punteggi migliori per ogni accoppiamento vengono anche selezionati i migliori 5 ripescati uso un termine un po' più generale per far capire che appunto vanno a indicare i saltatori che hanno perso il loro rispettivo testa a testa ma che comunque hanno un punteggio che li rende qualificati per la seconda serie di conseguenza i 30 atleti sono composti dai 25 atleti che hanno vinto il loro scontro diretto e i migliori 5 sconfitti del rispettivo scontro quindi 5 ripescati è un format totalmente particolare che si vede soltanto in queste 4 tappe della tournée un sistema che viene chiamato knockout system appunto che appunto va a esularsi completamente dalla coppa del mondo tradizionale dove appunto dicevamo che i saltatori saltano appunto dal primo al cinquantesimo quelli che sono qualificati normalmente e poi i peggiori 20 vengono eliminati qui non è detto perché può succedere che in uno scontro diretto debole non necessariamente il trentesimo punteggio corrisponde al trentesimo classificato della seconda serie può succedere che magari anche il trentasesimo punteggio si qualifica alla seconda serie perché ha perso uno scontro diretto o meglio ha vinto uno scontro diretto che è risultato inferiore rispetto ad altri è una manifestazione molto particolare è una manifestazione iconica diciamo di questo sport in salto con gli sci quando non ci sono mondiali e olimpiadi vede nella turniera dei quattro trampolini l'evento di culto tanto è vero che è un evento che si svolge ogni anno ciclicamente da 69 anni questa del 2020 è la manifestazione appunto numero 69 ed è a cadenza annuale come arriviamo a questa manifestazione abbiamo aggiunto due gare di coppa del mondo rispetto all'ultimo video che avevamo fatto del nordic podcast si è gareggiato a Engelberg in Svizzera e ancora una volta c'è stato un uomo solo al comando ovvero il norvegese Alvor Egner Granlund che ha inanellato altre due vittorie in coppa del mondo sono cinque consecutive è già record per la selezione norvegese e Granlund evidentemente è l'uomo da battere anche in questa tournée Granlund a Oberstdorf potrà già tentare un record ovvero quello delle sei vittorie consecutive in presa già in realtà successa a altri saltatori che poi hanno vinto la coppa del mondo non è mai successo a un saltatore norvegese qualora dovesse vincere la sesta a Oberstdorf l'interesse sarebbe riuscirà a vincere la settima a Garmisch-Partner Kierken considerato che nessun saltatore della storia ha vinto sette gare consecutive staremo a vedere è sicuramente l'uomo da battere perché come dicevo nei mondiali di volo Granlund è il saltatore che ha il pacchetto più completo in assoluto insieme a Dyson Beaker è ancora una volta l'uomo più in forma è mancato a Engelberg Karl Geiger che è il campione del mondo di volo con gli sci in carica perché ha contratto il covid dopo che è andato ad assistere al parto della figlia e dunque evidentemente ha saltato le gare di Engelberg le perlatalizie si è fatto evidentemente le feste a casa in quarantena e è pronto per tornare alla tournée voci, fonti tedesche ovviamente, ti dicono che Geiger potrebbe già rientrare ed era di fatto una lotta contro il tempo per arruolarlo per la tournée non abbiamo notizie al momento di eventuali esclusioni le uniche notizie certe che abbiamo sono che la Polonia schiera i titolari se così possiamo chiamarli quindi nessuna sorpresa nelle squadre la Norvegia schiera di fatto la squadra titolare anche lei i sei convocati per questa manifestazione qui prendiamo l'articolo di fonditalia.it sono ovviamente Granerud, Robert Johansson, Johan Andréforfang, Daniel Andrétande questi quattro sono anche campioni mondiali di volo con le scia squadre a questi si aggiungono Marius Lindvik che è un altro saltatore da tenere d'occhio che non ha gareggiato i mondiali di volo per scelta sua e poi si aggiunge il giovanissimo Sander Vossen Eriksen classe 2000, saltatore molto promettente ma ovviamente che deve farsi esperienza comunque già che un saltatore del 2000 per la Norvegia sia nella tournée è molto molto positivo la notizia in realtà che degli appassionati di salto farà un attimo riflettere è questa non solo la ricomparsa diciamo di Stefan Kraft che anche lui ha superato Covid problemi alla schiena ma soprattutto abbiamo l'esclusione di Gregor Schillensauer Gregor Schillensauer è il saltatore che ha vinto più gara della storia della Coppa del Mondo ha oggi 53 ma al momento non è un saltatore competitivo basti pensare ai mondiali di volo che è stato battuto da gente sulla carta meno quotata di lui veri per esempio Arte Aigro per l'Estonia e il nostro Giovanni Bresadola per l'Italia Schillensauer al momento non è assolutamente competitivo e infatti come leggiamo dall'articolo sempre di Fondo Italia è stato escluso in favore dei atleti che vi elenco qui Philippe Aschenwald, Michael Heibach, Daniel Uber, Thomas Lackner, Marcus Schiffner, Jan Hurl e appunto lo stesso Stefan Kraft che appunto rientrerà Schillensauer evidentemente andrà a fare della Coppa Continentale che comunque gareggerà in contemporanea la tappa di Ubersdorf in ogni caso l'esclusione per palmaresti Schillensauer fa notizia dal punto di vista tecnico in realtà molto meno perché appunto Schillensauer non era assolutamente competitivo gli uomini di punta della squadra austriaca sono comunque sicuramente due in particolare Michael Heibach e Daniel Uber Daniel Uber per la poche volte che l'abbiamo visto in Coppa del Mondo ha fatto dei risultati di altissimo livello in particolare tre podi in quattro gare Michael Heibach invece è colui che ha svoltato la sua stagione ai mondiali di volo tornando a essere un saltatore molto quadrato tecnicamente un saltatore che poteva contendere all'epoca la stessa tournée di Quadratomplini con il suo compagno a distanza, il grande amico Stefan Kraft ovviamente non è l'Austria la principale favorita ma della classifica, del rating ne parleremo dopo apriamo un'apparente sulla nostra nazionale perché c'è notizia anche per l'Italia che splitterà il suo contingente un atleta ovvero Giovanni Bresadola farà tutta la tournée quindi sia tappe tedesche che tappe austriache segno che Giovanni con i risultati che ha ottenuto sta facendo tanto bene e merita la convocazione alla tournée di Quadratomplini discorso di viaggio l'ho fatto per il secondo italiano ovvero Alex Insam che salterà le tappe tedesche e si aggregherà a Giovanni Bresadola soltanto nelle tappe austriache quindi Innsbruck e Bischofschauffen Insam si allenerà con la nazionale femminile a Zeiffeld sempre in Austria dunque si aggregherà a Innsbruck soltanto a partire dal 3 di gennaio perché comunque Insam deve seguire un percorso diverso è un atleta che sta cercando di recuperare dopo una stagione dell'anno scorso disastrosa e diciamo la scelta tecnica dello staff di non tra virgolette mandarlo al macero nella tappa tedesca della tournée è una scelta ponderata un po' di allenamento in più per fare in modo che possa almeno superare la qualificazione un obiettivo obiettivamente massimo al momento per Insam e anche per tutta la nazionale italiana in realtà a meno di Expoilac lamorosi di Bresadola è ovviamente una scelta in ottica futura una scelta per avere un contingente magari ridotto ma comunque abbastanza competitivo già comunque il fatto che la nazionale italiana con Bresadola riesca a superare le qualificazioni con costanza anche con condizioni proibitive vedi per esempio Engelberg dove c'era vento di coda pazzesco delle bufere di due passametri alle spalle insomma la dice lunga su quanto il movimento italiano stia partendo per ricostruirsi in ottica Olimpiadi del 2026 ovviamente in tutto questo chi possono essere i principali favoriti alla tournée? l'abbiamo annunciato prima questa è una classifica presentata da oasport.it e ha diciamo graduato in stelline i principali saltatori è evidente che dobbiamo dare un occhio alle superpotenze in particolare Norvegia, Germania, Polonia e Giappone con qualche exploit di qualche altro atleta come per esempio gli austriaci come per esempio appunto gli sloveni che possono diciamo redimersi dopo una vera stagione abbastanza problematico indubbiamente vengono date 5 stelle a Alvor Grandel per i motivi che ho detto prima può già Oberstof andare alla sesta vittoria consecutiva e potenzialmente a Garmisch alla settima è il favorito tecnico perché ovviamente è stato il saltatore superiore alla concorrenza su 8 serie di gara va testata ovviamente la costanza ma un saltatore così in forma è impossibile non darlo favorito tecnicamente un gradino sotto ci sono i tedeschi sicuramente Marco Saisenbic ha dimostrato di essere in forma nonostante appunto la prestazione di gara 1 di Engelberg non propriamente all'altezza vengono date 4 stelle anche a Carl Geiger che in realtà è più un incognito rispetto a Dyson Bickler perché Geiger appunto come ho detto prima ha contratto il covid mentre il computer fa ogni tanto quello che vuole e appunto ha dovuto fermarsi disertando una gara di coppa del mondo e di fatto non allenandosi mai quindi Geiger è un saltatore comunque in forma per quando ha gareggiato però è da testare assolutamente 3 stelle vengono date ai polacchi in particolare Jiwa, Stock e Kubacki nell'ordine con David Kubacki che è da tenere d'occhio perché l'anno scorso vinse lui la tournée da totale outsider venivano dati altri saltatori favoriti e invece Kubacki risultò essere il più costante sulle 8 serie di gara tra Germania e Austria e vinse una tournée da totale outsider la Polonia in ogni caso ha una squadra di grandi veterani perché non possono mancare Kamil Stock e Piotr Jiwa Kamil Stock prima di Kubacki è stato l'ultimo polacco a vincere la tournée facendo anche il grande slam vuol dire vincere tutte e quattro le gare della tournée va detto che il polacco più in forma in realtà è Piotr Jiwa altro veterano di lungo corso, coletano di Kamil Stock Piotr Jiwa è un classe 87 che ha nella portanza, nella qualità aerodinamica il suo punto di forza Jiwa per la forma che ha può puntare al podio Oberstdorf e chi finisce sul podio Oberstdorf di solito va a giocarsi la tournée 3 stelle vengono date anche ad altri outsider come possono essere Ancel Anisek che è l'unico competitivo della squadra slovena che ha avuto tante vicissitudini negative nei mondiali di volo in casa vengono date 3 stelle anche ad un altro outsider ovvero l'unico giapponese competitivo ovvero Yukiya Sato giapponese che tecnicamente è molto quadrato il problema di Sato è che ha una velocità di stacco dall'Iran per il decollo del salto inferiore rispetto alla concorrenza anche sull'ordine del chilometro di solito quando un saltatore paga un chilometro rispetto ai big, ai suoi pari effettivamente qualcosa lascia sempre sul piatto comunque è un saltatore anche lui da tenere d'occhio due stelline vengono date di fatto a tutti gli austrieci perché appunto come dicevamo prima l'Austria non ha una squadra competitiva al 100% può affidarsi ai lampi di Uber e di Eibach ritorna Stefan Kraft ma ovviamente non l'abbiamo praticamente mai visto in Coppa del Mondo e quindi Kraft sarà da testare viene dato un norvegese anche qui nella classifica delle 2 stelle ovvero Robert Johansson che è il secondo norvegese in realtà della squadra ma che non ha mai dimostrato di avere l'acuto per quanto riguarda una vittoria di Coppa del Mondo in primis in queste gare di Coppa del Mondo appunto ma non ha dimostrato la costanza per giocarsi dei po' di ripiazzamenti nei primi 5 spesso e dunque piazzamenti alti in ottica tournée una stellina vengono dati tutti gli altri quindi sia i saltatori di prima, seconda e terza fascia che non ho elencato quindi tutti i norvegese che abbiamo visto non ci sono, non ci sono altri tedeschi non ci sono tutti gli sloveni tutti i giapponesi insomma evidentemente per dare un favorito a questa tournée bisogna dare un occhio in particolare a Granrod, Eisenbiker, Geiger direi i polacchi per come stanno saltando un pelo sotto vedo appunto i saltatori che qui oasport.it ha elencato sarà comunque una manifestazione molto interessante da seguire la manifestazione che qui vi mostro direttamente il programma si parte domani il 28 dicembre con la qualificazione alle 4 e mezza con la gara il giorno dopo sempre alla stessa ora 31 e 1 gennaio si salterà a Garmisch-Partenkirchen ore 14 2 e 3 gennaio Innsbruck alle 13.30 5 e 6 gennaio Bischof-Schofen 4 e mezza per qualificazione e 4 e 45 per la gara obiettivo per l'Italia è superare tutte le qualificazioni con Giovanni Bresadola ed è un obiettivo obiettivamente secondo me raggiungibile con Insam sarebbe tantissimo superare direi una delle due qualificazioni in ogni caso tutte queste manifestazioni con gli orari relativi saranno in diretta su Eurosport canale 210 di Sky Telecaronaca come sempre di Francesco Paone e Massimiliano Ambesi sarà una manifestazione interessante al termine del quale arriverà anche il mio commento sul vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini edizione numero 69 anno 2020 in ogni caso fatemi sapere cosa ne pensate di questa presentazione della Tournée dei Quattro Trampolini colgo l'occasione per augurarvi buone feste un buon anno anche perché questo sarà l'ultimo video del canale per quanto riguarda il 2020 ripartiremo comunque il 6-7 di gennaio con il commento alla Tournée e quello sarà il primo video per ripartire l'anno prossimo con i ricontrolli di questo canale sportivo ancora una volta il saluto da parte di Meteotolgard e ci vediamo al prossimo video